esperimento follia totale non mi arriva niente ora dovrebbe arrivare la notifica buonasera a tutti nel frattempo chi c'è chi non c'è le prime due persone connesse una diretta fatta a caso totalmente senza preavviso quindi non sappiamo cosa riscuoteremo se riscuoteremo successo o meno su questa diretta totalmente a caso quindi ciao Matteo ecco il primo ciao Matteo ora aspettiamo dieci secondi ecco quanta amarezza che perché Caleb Iwan quanta amarezza che è successo raccontaci perché non c'è lui avrebbe vinto sette tappe ah ok per quello non so detto a caso la copertina poi la mettiamo la mettiamo dopo buonasera buonasera eh vabbè si è provato venerdì sera tredici persone dai 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 che arriviamo dai un centinaio di venerdì sera così a caso dai dai ci credo ci credo è arrivata la notifica sul lab non lo so vediamo un attimo c'è arrivata comunque vabbè dai allora io esordisco con io direi la copertina dai aspetta la copertina di giornata giustamente che la diamo in anteprima perché comunque la live non non è provvista di copertina perché è improvvisata questa live però la facciamo vedere eccola qua questa è la è la live è la copertina di questa live direi un gran motore che esistore eh storer che esistore gran motore gran motore io l'avevo pronosticato io l'avevo pronosticato e ci ha dato tante soddisfazioni questo ragazzo hai visto volevi mettere te jvine poi hai messo e oggi era in fuga jvine comunque jvine non è andato è arrivato in dicesimo è andato in fuga lo rivedremo eh attenzione perché il ragazzo ricordiamo chi è jvine perché non so se tutti sanno la storia di jvine eh racconta la vai eh no perché jvine correva in una squadra continental fu quinto nel famoso Erald Santur te lo ricordi quello che vinse Ingles secondo Berwick e lui fu quinto era in una squadra continental poi anche per quest'anno aveva rifirmato per una squadra continental in pratica poi ha vinto ha partecipato al concorso di eh Zwift no da Zwift Academy e l'ha vinto e ha vinto un contratto da professionista quindi lui giusto da un giorno all'altro eh da squadra continental e dai rulli grazie ai rulli insomma grazie a Zwift ora si è ritrovato a fare un dicesimo anche noi abbiamo abbiamo il maiale abbiamo il maiale che grazie a rulli otterrà un contratto da professionista allora direi di far così noi facciamo come se non fosse una diretta facciamo come se fosse un video così allora facciamo vedere eh cosa è successo oggi cosa è successo oggi allora questa è la tappa di oggi una tappa interessante direi interessante eh partono in fuga c'è stato un casino di attacchi la regia spagnola si è persa un po' tutto insomma c'è stato veramente un caos iniziale hanno tirato poi se ne vanno i tre della DSM con eh altri corridori Arendtman Bardet e eh Storer su tutti poi prova l'attacco la Movistar anche da dietro nel frattempo c'erano 30 corridori in fuga davanti con i tre della DSM la Movistar con Carapazzo ci prova e qui succede il patatrack Valverde casca non si è fatto niente ragazzi non si è rotto nulla gli è andata bene e il Bala non muore mai non muore mai sì questa è la caduta di Valverde non ha nulla non ha nessuna frattura e quindi tornerà gli è andata bene gli è andata bene che se c'era il guardrail si faceva male gli è andata bene che è cascato nel punto in cui non c'era il guardrail che quindi è scivolato sicuramente sarà grattato tutto però non si è fatto male sembrava una clavicola rotta vedete la spalla destra e il gomito poi in realtà comunque non si è fatto niente ragazzi è ripartito ragazzi non muore mai è ripartito cioè è ripartito è ritirato comunque finirà la stagione nel senso sì 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 non se lo levano di tonno si è ritirato alla huerta però ragazzi sarà 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 il via delle prossime gare questa è la brutta scena l'importante è che comunque no non si sia rotto niente quindi si riparte se ne vanno se ne vanno Kradok Sivakov e Storer Sivakov gli casca la catena sbaglia a cambiare Storer attacca Kradok sembra inizialmente poterlo seguire poi molla solo Sivakov li va dietro poi torna Verona che gli scatta in faccia tutti e due poi c'era anche uno della lotto poi Storer lo riprende scatta a sua volta e se ne va e se ne va gran motore per Kesi Storer io volevo fare come Michael però volevo fare come Kesi per la tattica più brutta che abbia mai visto in tutta la mia vita cosa ha combinato oggi cioè sono arrivati sulla penultima salita hanno iniziato a scattare in faccia a Kradok a Storer non lo so così a caso su una salitella inutile poi ha riprovato a staccarli 50 volte non li ha mai staccati poi da quanto sforzava sulla bici gli è saltata la catena e l'Arti l'hanno subito cercato di staccare poi lui ha fatto un chilometro a tutte sembrava una crono per rientrare su Storer poi litigavano insomma poi c'è che e poi è scoppiato clownosamente la tattica veramente peggiore che abbia mai visto proprio in corsa negli ultimi due o tre anni io penso che Sivakov comunque non ha tanta esperienza nel giocarsi le vittorie di tappa in questa maniera qua perché però oltre a avere le gambe per poter vincere una tappa del genere che comunque era dura bisogna avere anche la testa da attaccante Storer comunque quest'anno viene da Artur Delen è un'annata in cui io lo vedevo che aveva la gamba buona infatti il mio Giolli è stato Storer è un uomo da fughe è un uomo da fughe e attenzione a DSM oggi mi è garbata ad esempio vedi DSM si era vista poco Bardet sembrava che potesse fare chissà cosa invece anche lui è lontano in classifica invece con Ares Bardet oggi mi è piaciuta dagli fede insulta Landa la tua occasione anche se ne avrai altre eh allora ora e poi dite che non vi consiglio corridori buoni grande Luca ora poi ritorna anche Luca eh che si sta improvvisando che siamo tutti un po' con gli orari streaming city in questi giorni Valverdi is my idol Valverdi è un grande a prescindere ragazzi eh allora io direi di attaccare nel discorso Carti Carti anche oggi male si è staccato sulla prima salita con Shackman porca puttana con Shackman era ragazzi sarei visto ieri questo non andava in pianura ma io non andavo in pianura come faceva la mia salita dai cosa stiamo parlando dai c'è poco da dire dai non ho già parlato eh no è male non c'è niente da aggiungere allora facciamo così mettiamo eh mettiamo l'ordine d'arrivo di oggi così commentiamo un po' eh l'ordine d'arrivo di oggi eccolo qua allora così ci vedete anche voi eccolo qua Storer grande Casey Michael Storer in realtà però ormai lo saprannumereremo Casey Storer Casey Storer primo 21 secondi su Carlos Ferona Sivakov che litiga e sbaglia tutto una tattica di gara discutibile si becca comunque quasi un minuto da Storer e poi Cus che dimostra che anche in fuga non riesce a finire però però rientra non si sa cosa fa imprevedibile dai ma poi perché Rogic ha la maglia rossa ma andava Cus in fuga perché vabbè ma che vuol dire dai l'hanno mandato lì così che vuol dire quello non vuol dire niente l'hanno mandato lì tante volte la fuga prendeva 10 minuti non si sa mai la serie movie star è bellina bellina davvero chi non l'avesse guardata si è perso allora Jack Hager è arrivato e qui prima domanda si Jack Hager quinto Landa o Jack Hager ora vediamo la classifica perché Landa ha ripreso qualche secondino anche oggi dimostra qualche allora poi quinto Jack Hager 1 e 24 sì comunque tutta sta gente qui che era in fuga insieme perché erano 30 in fuga alla fine poi sono arrivati i 14 della fuga e tra l'altro errà da deludenti io penso facessi molto meglio il 14esimo quindi sì ok erano in fuga è vero che poi sono partiti Storer Sivakov e Kradok che poi Kradok che fino ha fatto si è perso totalmente è stato riassorbito dal gruppo se non erro c'era Kradok giusto? sì 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 non è riuscito ad arrivare nemmeno nei 14 bene grande Kradok quindi Kuz e Hig Bardet comunque sono stati staccati da Storer Sivakov e Verona quindi dimostra secondo me si controllavano un po' per la mano sì però però se Grosciartre Bardet Jacky Grosciartre lo citavo ora diceva ragazzi vogliamo parlare di Grosciartre secondo nel frattempo siamo più di 100 ragazzi di venerdì sera a casa una diretta a casa Grosciartre ragazzi si era detto cioè io l'avevo detto prima della guerra questo è lui è il mago delle fuga e oggi per 8 secondi per 8 secondi non si è preso la maglia cioè a terzo la maglia perché se no aveva fatto la classica bidonata come al solito e domani era il maia rossa ma sai la fuga bidone è stata contenuta però perché poteva essere peggio ma per lui i 30 corridori potevano andando a 10 minuti solo che un po' la Movist era provata a attaccare un po' la Ineos hanno anche la Hawaii a un certo punto ha tirato perché voleva rientrare in fuga con credo Polans non so chi si Jan Polans che poi è riuscito tra le altre cose a rientrare quindi hanno sempre tenuto la fuga lì lì non hanno mai preso gli uomini in fuga a tantissimo margine no no e quindi ma per lui era la fuga bidone quella che gli portava la maglia capito è un mago lui è il re di questi altri lui quando ora riuscirà di classifica no e poi ci rientrerà con un'altra fuga capite che tutto stavolta alla cale b1 dice si tiene per la volata di domani ma la movie star perché hanno fatto il film ah fede ma movie star perché hanno fatto sì hanno fatto una serie su netflix la puoi vedere due stagioni due stagioni gross charter vogliamo parlare di gross charter il secondo ora guardiamo la classifica anche la jumbo fisma ha fatto la serie ma la mette a pagamento sul sito olandese sì la jumbo si cioè buon art la sta sponsorizzando sulle storie il fatto di fare il freddo aspetta ah il baccani ha donato un euro con paypal che ragazzi che ferrovero che ferrovero baccani idolo idolo assoluto idolo assoluto no dicevamo Moulin sul fatto di Roglic che non voglia tenere la maglia cosa ne dice? no l'ho detto ieri che la sta tenendo per manifesta in priorità dell'avversario cioè andando al minimo gli tocca tenere la maglia capito non fa niente non si impegna neanche cioè cerca di con il freno a mano tirato quasi eppure il livello è quello lui per ora è dieci volte superiore alle altre quindi gli tocca tenere la maglia oggi senti Grosciartene ormai poteva fare qualche conto meglio che dici dai otto secondi ormai la devi prendere la maglia sì anche dalla milaglia gli potevano dire prova un attimo ma infatti ecco perché ti ho detto che questi qua secondo me non hanno comunque una gran gamba perché porca troia vai in fuga te addirittura Grosciartene i lotti per la maglia cavolo prendi la stacazione maglia invece il fatto che sia arrivato gli otto secondi vuol dire che lui non aveva le gambe per star lì davanti insieme a Storer e quell'altro non è che l'hanno lasciate andrà per un errore tattico per me non ne avevano perché se no la maglia la devi prendere assolutamente cioè io la vedo così poi magari sbaglio magari avevano calcolato al secondo e hanno sbagliato hanno sbagliato non lo so ci sta non lo so qualcuno dice siamo sicuri che non abbia più dell'arte in altre gare avrebbe staccato tutti ma ora in altre gare ha anche perso o rischiato di perderla negli ultimi giorni no? e quindi forse è diventato un po' più saggio un po' più furbo invece di stare a fare le volate e staccare sta lì risparmia e poi all'ultimo cronometro le dà 4 minuti a tutti allora andando avanti con l'ordine d'arrivo che ci eravamo soffermati su che i guardi e i grossciartene che se la sono un po' giocata lì per le posizioni di rincalzo poi Kron ne aspettavo un po' di più da Kron onestamente Polans anche lui hanno fatto diavolo a 4 la way per farlo rientrare nella fuga e poi niente vabbè è rimasto lì J Vine ottimo 2,49 comunque va benissimo poi il primo del gruppo l'ultimo chiude Petilli ottimo tredicesimo quattordicesimo il primo del gruppo è stato Adam Yates che oggi è sembrato in palla oggi è sembrato in palla allora nello scatto che ha fatto Yates ha frazionato il gruppo sull'ultima salita che ormai sta vuelta ci presenta tutte queste salite molto corte pendenze abbastanza importanti però molto corte quindi è difficile poi fare una selezione Yates Roglic Mas Bernal Lopez Della Cruz e Mantis così a caso a 3 minuti e 33 perdono 13 secondi Blasov quindi Blasov perde 13 secondi Guillem Martin perde 30 secondi insieme a Ciccone Aru Carapaz e Landa quindi poi tutti gli altri grossi uomini di classifica qua non ce ne sono più io Yucatino guarda non ci vado neanche a vedere dove è arrivato Yucatino no no si è ritirato ah si è ritirato oh mamma io questa non la sapevo si è ritirato è ufficiale subito allora io no io questa me l'ero persa si è ritirato subito appena visti che forse stava male però vabbè non era cosa allora un acquistore io questa me l'ero persa guarda ero non l'avevo capito stavo sapendo ho visto Valverde tutto il resto ma Yucatino ah ottimo ottimo e l'ho preso è perché aspetta aspetta l'hai comprato non mi dico aspetta 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 meraviglio di te meraviglio di te spero un campionato di non averlo guarda onestamente non ce l'ho non ce l'ho c'ho l'anda però vabbè vabbè Mulla Menti e Sfappodio sì chiedo scusa per questa per questo per questa come Moulard spista di Yucati pensavo che fosse arrivato con 40.000 minuti non mi ero accorto del ritiro allora questo è importante perché dopo una settimana di gare qui si inizia già a vedere qualcosa perché oggi è una bella tappa Roglic Gorshartner con la fuga bidone a 8 secondi come avevamo detto poi Eric Mas 25 Lopez 36 quindi questi due ragazzi occhio Valverde purtroppo Mas se lo vedo meglio Polans comunque con la fuga è rientrato quinto a 38 secondi Bernal sempre lì ragazzi Bernal zitto zitto secondo me se la va a giocare però non è brillantissimo no crescerà probabilmente però non è posso dire il mio podio guarda te lo dico Roglic Bernal io vedo più Lopez e Adam Yates addirittura no Bernal prima di Yates dai non credo che Yates arrivi davanti a Bernal calmo calmo va bene poi Jack Hague e Kuss che rientrano in classifica con la fuga Kuss che aveva perso secondi nei primi arrivi due arrivi in salita a sto giro invece recupera Lasov perde posizioni e supera il minuto di ritardo 1 minuto e 06 Yates 1 e 22 Ciccone Aru e Landa escono dalla top 10 rispettivamente Ciccone 1 e 28 Landa 1 e 42 e Aru 1 e 47 Della Cruz 2 e 14 recupera un po' di posizioni e Mantis 15esimo a 2 e 19 Carapazzo 16esimo Mader e poi via via tutti gli altri diciamo fino a Carapazzo cioè Ciccone e Landa no possono fare top 10 bravo Gabriele Gabriele Contri ha beccato il nocciolo della questione non lo so Mas avrà una giornata come sempre vedo bene Ciccone e Landa possono fare top 10 tranquillamente perché alcuni di questi usciranno però come potranno arrivare settimi ottavi sesto non di più a meno di miracoli io dico ma che cavolo gliene frega io se fossi loro veramente uscirei i classifi e andrei a caccia di capo sempre all'attacco inutile inutile tirare avanti è un'alternativa di ma chi se ne frega ma chi se ne frega di arrivare a settimi cioè se sei non lo so grossiarti ti può andare anche bene ma a Landa o a Ciccone cosa gli interessa di arrivare a settimi ottavo nono ma è l'attacco purtroppo in questa volta devi essere perlomeno in questa prima parte devi essere uno che va nelle salite ripide corte e ha un bello scatto purtroppo sia Aruc che Ciccone non sono la tipologia di senti non è vero niente neanche sto salire lo sai perché ma se non è quel tipo di ora va e va anche sulle salite corte quando uno va va quando uno non va non va è inutile trovare le scuse la salita non è adatta a me il percorso lo sai a chi sono adatti i percorsi e le salite a chi va a chi non va per chi non va non c'è nessun percorso adatto io la penso dice Pasquale che Ciccone non mi ha fatto top 10 verissimo io ho capito io dico che quest'anno al giro se non avesse avuto quei problemi che ha avuto una top 10 ci stava onesta vedendo la top 10 e quando ha fatto top 10 è arrivato nono cosa ha risolto nella vita niente io guarda ti dico una cosa anche se poi non ci incastra nulla però c'è tanti corridori che hanno capito di poter fare qualcosa di buono nei giri quando hanno fatto la loro prima top 10 ora non cito chi è perché poi vabbè lasciamo perdere si chiama Lenz che quando ritornò a correre alla vuelta arrivò a quarto nel 98 se non sbaglio e da lì disse ok provo a vincere tu poi lasciamo perdere tutto il resto però a prescindere da questo sabine chiudiamo parentesi ci sono tanti corridori che hanno bisogno di uno stimolo da top 10 top 5 per mentalmente settarsi e dire ok posso far classifica magari gli manca quello non è io che chiaro ascolta ascolta anche formolo anche lui aveva fatto la stessa cosa ha fatto delle top 10 alla vuelta triordi e poi arrivò non mi ricordo neanche come arrivò però tipo ottavo qualcosa del genere e poi non si è più ripetuto e poi in seguito la classifica non l'ha più si è quasi rovinata nel senso io non sono d'accordo le squadre per i punteggi soldi vogliono top 10 e ci sta potrebbe essere anche una motivazione questa onestamente a farlo farlo non può dare la cruz con la fuga bidone che anche lui è un altro che verai allora volevo la maglia a punti allora la maglia a punti vabbè la guardiamo è cambiato poco ovviamente identica a ieri è salito Polans e basta però per fortuna ecco in queste tappe qui Roglic rimane molto distante dai primi due velocisti ed è bene perché queste tappe qui sono quelle tappe balorde dove magari Roglic o chi vincerà 10 euro 10 euro su un italiano che vince una tappa se chi lo metti dai poi Dainese non ci credo Dainese per me l'unico che può vincere una tappa è Dainese in una volata magari dove Jacopse e non Filippse rimangono un po' chiusi Dainese può Dainese sta andando bene ha fatto diversi per me Baggioli Baggioli o Baggioli bravo o Baggioli o Dainese io vedo questi due sì bravo allora invece la Maglia Com attenzione perché abbiamo Sivakov 16 Storer 12 poi abbiamo io ho visto Bardet sprintare un paio di volte per i GPM quindi anche Bardet secondo me se la va a giocare meno male stava male che i Gundici e poi Taramai e Lisonde sono relativi alla fuga dell'altro giorno quindi diciamo dopo oggi abbiamo una situazione allora Sivakov non so quanto le ne freghi della Maglia no a parte le ne freghi scusa secondo te lo lasceranno libero di andare a seguire i campi della montagna e levano un uomo a Bernal e a Yates sarebbe una follia totale una follia totale dipende loro in che stato saranno fra tre o quattro giorni cinque in classifica perché se Bernal e Yates iniziano a essere già a due o tre minuti da Roglic ipotesi allora Sivakov può avere libertà se rimangano sempre lì a 30-40 secondi è chiaro che Sivakov lo fanno lavorare quindi diciamo per ora è primo poi vediamo secondo me ecco Storer e Ghebardè considerando che Jack il capitano per me è sempre l'Anda ad oggi secondo me sono alla pari a questo punto anche perché ma guarda la classifica è avanti di un minuto è vero ha ragionato e poi l'Anda non va se poi migliorerà secondo me almeno alla pari se lo merita almeno Jack è vero è vero è settimo 57 secondi l'Anda è quasi si ha una quarantina di secondi di vantaggio almeno alla pari scusa e poi c'è il giro madre delusione per ora Padun guarda onestamente Padun l'ho visto poco pensavo fosse un pochino più mescene Padun ma male male Bernal non va o si nasconde Bernal ragazzi per me non è il Bernal del giro però è il Bernal di fine giro giustamente Luca Bertacchini si che faceva fatica Luca Bertacchini dice Egg non potrà più andare in fuga almeno fino a quando non torna a perdere terreno è vero perché ora essendo lì a 50 secondi infatti è chiaro che non lo lasceranno più andare quindi ora si vede di che pasta è fatto perché al prossimo arrivo in salita deve stare con Roglic se vuole giocarsi la tua tenda della vuelta no capito secondo me se la giocano alla pari con Landa dai Landa deve capire che così non può andare avanti cioè non può sacrificare tutti per lui perché non va poi se migliora piano piano bene se no ciao cioè Egg avanti deve avere le sue possibilità io la penso poi mi sbaglierò la maglia bianca Bernal Blasov Gino Mader qualcosa recupera Storer recupera comunque 8 e 29 comunque la maglia bianca se la giocheranno Bernal o Blasov questo è abbastanza evidente direi evidente leggiamo un po' di commenti la De Cunning poteva provare a portare Cattaneo per una top 10 ragazzi dopo un tour Cattaneo che comunque non ha questa esperienza di grandi giri fargliene fare due di fila e sperare che ha fatto un ottimo 11esimo posto 12esimo a Tour de France non mi ricordo comunque ha fatto un ottimo Tour de France era difficile poter mantenere una condizione non è quel corridore di spessore ottimo corridore Cattaneo però due grandi giri alto livello era difficile quindi secondo me la De Cunning ha fatto bene è vero che la De Cunning onestamente Knox sta andando male Van Sevenant ha provato oggi entra in fuga niente Bagioli è andato molto bene è l'unico però lui ha avuto una battuta d'arresto nel primo arrivo in salita dove c'aveva la maglia bianca non è mica fa classifica lui deve vincere una tappa fa qualcosa Baren Baren delusione per adesso Ine o Sire ma anche se mancano ancora hai ragione sono d'accordo perché la Baren io sulla carta super squadrone da salite e poi io nei momenti decisivi non li vedo dove sono? sono dietro all'Anda quindi non riesco a capire Poules Caruso Padun Egg Egg oggi era in fuga però poi per il resto nei momenti decisivi non ci sono sono lì ma non sono dove dovrebbero essere secondo me c'è qualcosa che non va Allora questa è bella fortunato sì perché perché lo Zoncolan ha pendenze toste e secondo me fortunato essendo uno che ha vinto sullo Zoncolan su queste salite qui ci si poteva trovare molto bene la Movistar oggi si muove si sta muovendo bene fino alla caduta di Valverde verissimo ha provato a fare ha provato a fare qualcosa ci stava e purtroppo ragazzi la corsa è corsa e la sfortuna capita io non mi ricordo una caduta di Valverde in un grande giro con il ritiro ora a memoria forse è la prima volta non mi ricordo il ritiro non mi ricordo il ritiro si è ritirato l'ultima volta nella prima tappa mi sembra Artur de France nel 2017 sì è anche il cascone il prologo sì il cascone il curva pioveva se non sbaglio sì 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 bravo bravissimo però non lo so cioè comunque ha corso talmente tante gare che dice che anche Trentin potrebbe essere un uomo da tappa se non o è il servizio di Molano ragazzi Molano le volate le fa lui Trentin con lui conterà una tappa mossa che c'è che vedi si scomorgia tutto con l'attacco di Floyd Landa ci sta guarda gli ci vuole una sala la Landis come un borraccio che si tira l'acqua addosso per 130 euro sarebbe l'unica soluzione perché ora come ora oggi l'ho visto un attimo in faccia prima che si staccasse male male ragazzi sì effettivamente perdere 30 secondi in una salita del genere la tappa è stata tirata fin dalle prime chilote oggi è stata una bella tappa sì è arrivata la fuga tutto il resto però oggi è stata tirata come tappa non è stata male è mancata un po' un po' la bagarre tra i big c'è stato quell'attacco di Adam Yates arrivati in 6-7 con Mentes ecco io dio io dio mulla arriva Mentes non me lo dire non me lo dire te lo dici ma non me lo dire in un'altra volta in un altro momento te lo dico mettendo le caricature guarda che fa più colore comunque confermano il prologo del tour del 2016 sì 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 no ti dicevo arriva Mentes con Roglic Adam Yates Bernal Lopez Mass e non ci arriva Landa porca troia com'è possibile questa cosa Carapazzo posso capire va bene Carapazzo infatti chiedevano un commento su Carapazzo e Carapazzo è appagato ragazzi Carapazzo ha appagato podio al tour podio al tour e un podio contro un Wingergaard strepitoso Pogaccia lasciamo perdere proprio un altro pianeta quindi quello che poteva fare era a questo tour era al terzo posto sì gli è mancata una vittoria però va bene è andata l'Olimpiade l'ha vinta ora venne alla Vuelta è normale ragazzi che il suo l'ha fatto se dà una mano a Bernal e fa una top ten va benissimo anche se secondo me Carapazzo la terza settimana da Balordo attacca una fuga a bidone proverà a farla proverà a vincere una tappa dai proverà a vincere una tappa e cosa viene viene ma l'aveva anche detto in un'intervista che voleva vincere una tappa allora l'avevo Vuelta poi la classifica avrebbe visto strada facendo tra l'altro Mentes si era leggermente staccato nel falso piano finale per rientrare si è messo in posizione da discesa certo fa le salite in discesa cioè ragazzi questo è tutto un D ma raga ma la scuola è quella la scuola di Mentes del Maiale è la stessa giustamente Calibri dice Carapazzo sta facendo anche troppo sì dai ragazzi ma un Equadoregno un Equadoregno che vince che vince le Olimpiadi è uguale troppo troppo no e a me Carapazzo come corridore piace e secondo me ragazzi fa come al tour di due anni fa non va via a mani vuote qualcosa porta a casa fidatevi o una buona posizione in classifica recuperandola tramite una fuga o qualcosa o si porta a casa una tappa tutti i fugi e bidone cioè la classifica sarà fatta tutta da fugi e bidone è vero a parte i primi tre poi sarà davvero sì ragazzi voi ci scherzate è stato già diverse volte la coperta una cosa del genere ma sai allora della cru mentis ok della cruz della cruz della cruz se non lo conoscete è un corridore così c'ha un giorno da top e un giorno da fuga bidone da 35 minuti e il giorno dopo fuga bidone per rientrare la cruz è così si sa e però guardate alla lunga della cruz nei 15 ci arriva ah nei 15 poi lo vedi 10 se ti pia 10 minuti una volta la vedi farlo riuscire te ne vedi alla fine Guillaume Martin li vedi questi tre qui come rientrano con una fuga con 10 minuti di vantaggio vabbò dai ragazzi è stata una live così improvvisata giusto perché non avevamo voglia di registrare un video avevamo voglia di interagire un po' stasera allora noi domani domani vediamo vediamo se fare un video o meno sicuramente se la connessione in Val Gardena me lo permetterà saremo in live domenica sera e quindi domenica sera facciamo una bella live fatta bene all'incirca dalle 9 9 e mezzo quindi lo aspettiamo sicuramente domenica sera e facciamo vedere però giustamente ragione anche Samuele che dice più che fughe bidone ci sono cioè è un po' la stessa cosa capito quando ci sono tante fughe bidone è un po' perché ci sono tanti bidoni come dici che no l'ha detto l'ha detto lui io mi dissocio si scherzo si usa si scherza poi a volte ci sono dei commenti che dicano oh ma allora saliteci voi in bicicletta a parte ci salga in bicicletta ma si scherza ma noi salite i fututi quindi c'è allora questa è la tappa di domani la manga del Mar Menor si presenta nessun GPM anche se c'è due salite all'incirca dopo la metà di gara però domani io prevedo volata onestamente e siccome non sappiamo se faremo un video domani sera vi facciamo vedere anche la tappa di domenica e qui ragazzi si inizia a godere qui si inizia a godere fortemente il famoso velefic il famoso velefic che potrebbe essere tradotto altro di velafico però velafic a qualcuno glielo ficca eh è probato glielo fic dupate presenta 4 GPM 2 di facile diciamo seconda categoria prima categoria anche se non è difficile è molto lungo è molto lungo l'alto eh di venta luisa eh che misura 29,2 km però 4,3% quindi abbastanza abbordabile si va quasi sui 2000 metri poi si scende GPM di terza categoria e poi arrivo finale HC quindi il primo horse category e inizia a essere una bella salitella questa qui perché perché eh sì sì perché sono eh ora così non si vede ho ingrandito troppo eccola qua sono 13,1 km al 7,2% quindi qui inizia a essere una bella bella salita qua potrebbe succedere lo scatafascio quindi no mi fa rire che la comincia la faccia non le devo leggere cos'è chi è no di Samuel ci ha pensato oggi no no dopo quella è una cosa non vero si gole sulla è una volta sexy live infinita quando vincerà Vine eh sì sì quella dai intanto oggi ha vinto Storer che era il mio jolly ragazzi ah vi devo far vedere una cosa attenzione perché chi sta partecipando alla Vuelta alla Lega Privata Vuelta eh che siamo più di mille mille e ducento mille e trecento mille e tanti siamo io vorrei far notare chi è terzo se si vede è il Fanta Cycling Team con 1837 punti siamo terzi perché in formazione si è beccato Storer Capitano incredibile ma vero incredibile ma vero quindi attenzione ragazzi siamo terzi vi stiamo dando del filo dal torcere nella Lega poi lo sapete anche se noi la vinciamo il premio lo becca al secondo chiaramente quindi si partecipa così per goliardia però ragazzi abbiamo beccato Storer eh attenzione tanto il tuo fratello ci sta dando dei ridicoli giustamente non so forse a noi probabilmente ci sta offendendo non lo so ok allora la Porta ha vinto no la Porta non ha vinto oggi se volete vedere due risultati se volete vedere due risultati di oggi giusto per rimanere no ascolta volevo fare volevo parlare poi basta poi davvero si chiude del del tour della venire eh infatti ecco allora siccome non c'è di uso non c'è di uso eh perché si è ritirato ha vinto il norvegese forte Johannessen e un secondo ottimo Filippo Zana da Bardiani che ha già fatto il Giro d'Italia quindi ha già un po' d'esperienza che purtroppo non è riuscito erano insieme poi non è riuscito a stare insieme al norvegese il norvegese è quello che è arrivato secondo al Giro d'Italia Under 23 dietro a Iuso ora non c'è a Iuso perché è cascato e quindi probabilmente c'è a lui questo tour della venire che vedrà per la seconda volta consecutiva un norvegese vince dopo nel 2019 io ti dico vedendo sta roba qua no che non ci avevo fatto caso porca puttana ma se un Under 23 no comunque uno di vent'anni sì che allora sono dieci tappe il Giro e saranno una decina al tour credo cioè se loro fanno Giro Tour e comunque lui questo sta dimostrando che si può essere performante a Giro Tour se uno già da Under 23 inizia in generale uno a Iuso Johansen questi qua questi corridori qua iniziano a fare Giro Tour il solito anno da Under 23 quindi da ventenni perché non si può fare Giro Tour anche da professionisti è vero sono gare di doppia durata invece che 10-20 tappe ma perché non si può fare Giro Tour perché solo tour vuelta cioè questi ragazzi stanno dimostrando che anche da Under 23 è fattibile Giro Tour Zana ha fatto il Giro d'Italia non quell'Under 23 addirittura il Giro d'Italia è arrivato settimo nella tappa quella che vince Bettion si si ricordi la fuga si però aspetta aspetta è bravo il Giro d'Italia è a maggio ok mentre il Giro d'Italia Under 23 se non erro mi sembra l'ho visto prima il Giro d'Italia Under 23 è a giugno quindi addirittura è 20 giorni dopo il Giro d'Italia quindi c'è anche meno recupero tra Giro d'Italia Under 23 è vero che ragazzi sono 10 tappa e non 20 per l'amor del cielo però è bello vedere questi ragazzi giovani che cercano di fare l'accoppiata Giro Tour da Under 23 non so cosa ne penseranno poi la gente che commenterà domani però è bello insomma vedere questa cosa ma il Tour è il calendario Welt sì però infatti ve l'ho detto ragazzi ma il Giro d'Italia è a giugno non è a maggio quindi all'incirca si assomigliano come tempistiche Luca comunque è bello è bello vedere questi ragazzi che provano a fare Giro Tour grandi detto questo le gare di oggi e tra le altre cose aspetta Johansen è primo e Zana è quarto quindi sì sì ci sta ma guarda che ce la può fare a passare l'Hemrise che l'Hemrise è quello della della Jumbo Rodriguez secondo me è più forte sono cinque secondi c'è stata la cronoscuade c'è stata quindi domani c'è una grande tappa perché l'ottava tappa è una grande tappa allora vi dirò domani si guarda perché domani alla volta c'è una tappa di pianura e questa la fanno vedere su aerosport e le ultime due tappe le fanno vedere su aerosport questa è bella questa è la prossima e anche la nona sono due belle tappe le fanno vedere tutte e due io me le guardo perché tifo Filippo Zana grande grande Mullah che anche perché per vincere al fantasy bisogna sempre iniziare a studiare i giovani da anni e venti poi dai certo tutti l'avenir se guardate gli ordini d'arrivo sono tutti i migliori erano lì nei primi dieci nei primi dieci quindici sono usciti tutti da lì è una oggi avevamo il tour di Lemusen ha vinto Eric Fetter della Eulocometa seconda albanese sempre dell'Eulocometa e poi la classifica generale invece è stata vinta da Warren Barghil dietro Buonamur e Perishon poi c'è stato appunto il tour dell'avenir poi avevamo il tour di Norway vinto vinto la tappa stage 2 da Ethan Ather che lui è forte ragazzi questo viaggio si è già fatto vedere quest'anno Schelling quarto Van der Sande Theon Hinsen Ethan Ather e Migarba Migarba lui guarda quest'anno zitto zitto ha già fatto diverse vittorie è un bel corridore questo qui è giovane secondo me i prossimi anni ci farà divertire anche lui se non lo relegheranno sempre nelle corse minore perché stanno facendo così tra l'altro dicevano dei talebani ora vi toccherà a cambiare nome perché ragazzi ma è Mullah è un nome goliardi che non c'entra un cazzo con i talebani e la poi vabbè leverò una così siamo a posto va bene uguale se ci metto Mullah con l'accento nessuno può dire Mullah è vero fai con l'accento Mullah nessuno può associarli perché tanto non c'entra niente quindi va bene così ragazzi vi va bene Mullah con l'accento sulla farò così cambia niente ma almeno nessuno allora il quesito però dovete fermi tutti quanti cazzo di mi piace c'è in questa diretta fermi tutti perché comunque ora la sfida è a cinquecento mi piace c'è la sfida padel padel con piazzano ragazzi mettetevi mi piace a questa diretta c'è quaranta mi piace siamo a un cento e passa accidente a voi andiamo detto questo nei commenti sotto la diretta non qua in chat visto che Mullah tutta la ossa dell'Afghanistan accidenta a loro e chi l'ha fatta andare al comando dell'Afghanistan detto questo Mullah non si può tecnicamente non è più carino utilizzarlo per non so neanche chi siano i Mullah no vabbè perché vabbè è associabile a talebani all'Afghanistan e al Cristo di vabbè e quindi Mullah ma no allora risparmiatevi tutte le battute tutti i nuovi particolari da mettere sotto nei commenti a questo video come si dovrà chiamare Mullah dalla prossima diretta addio ciao è finito Mullah con l'accento sulla A Mullema Mullema potrebbe essere Mullema è finito è finito nei commenti sotto al video no se feda no se feda potrebbe essere bene dai date date le idee o se no se volete lasciarlo così perché ci importa una sega di talebani in Afghanistan con tutto il rispetto di tutta la situazione che è un caos totale però a noi sinceramente di utilizzare Mullah non è associabile assolutamente a quella situazione lì però se pensate che possa essere un fastidio diteci un nome da sostituire a Mullah ok comunque per noi rimarrà sempre Mullah detto questo vi salutiamo diretta breve poi torniamo torniamo no non scriveteli in chat sotto nei commenti e mettete mi piace i commenti i commenti ciao ragazzi arrivederci guardate il studio della venina